Uno degli argomenti più delicati da affrontare per le forze di polizia e di soccorso, la comunicazione e la psicologia nell'emergenza, è stata al centro di un corso di aggiornamento della Polizia di Stato tenutosi nella Sala Maria Luisa di Palazzo Ducale a Lucca. Relatori della giornata sono stati il capitano di pregata Antonio Giovanni Lazzeri, la sottotenente di vascello sanitario Chiara Borgini e il dottor Renato Bertolucci, psicologo e giudice onorario del Tribunale dei Minori di Firenze. Affollatissima la platea, visto che il questore Cracovia aveva allargato l'invito a tutti gli organi di polizia e soccorso operanti in provincia. Le giuste parole da usare, l'approccio e i modi per affrontare il difficilissimo momento della comunicazione di disgrazie ai familiari delle vittime sono state al centro della lezione, in modo da adotare gli operatori di strumenti psicologici adeguati sia nei confronti di chi riceve la notizia ma anche di coloro deputati al gravoso compito della comunicazione. Scindere è quasi impossibile, però come diceva il dottor Lazzeri prima, la giusta dose di empatia, di vicinanza quindi il soccorritore, l'esperto dovrebbe essere quella persona che riesce a comunicare, a trasmettere una solidità nell'emergenza. Abbiamo voluto estendere l'invito anche alle altre forze polizia, sia statali che locali e anche a coloro della protezione civile che si trovano ad operare spesso a fianco, se non addirittura in prima battuta. Tra l'altro un'iniziativa interforce che ha avuto il privilegio di essere stata aperta con un appassionato intervento del signor prefetto di Lucca che ringraziamo.